ciao a tutti amici e bentornati in questo nuovo video oggi siamo in diretta dall'autodromo del levante in provincia di bari per seguire il tanto atteso trofeo inverno quest'anno ci sono tantissimi ospiti adesso stanno correndo alle 300 la categoria femminile speriamo di riuscire a scattare qualche foto e a farvi salutare da qualcuno di loro ci vediamo in giro ragazzi a dopo ragazzi sì 100 pro eccoli come cantano ragazzi siamo con il mitico luca petersoli della riding school casa noi siamo qui oggi anche per lui grazie allora ho guardato la posizione in gara oggi e voleva avere l'onore di stringerti la mano io in bocca al lupo per la gara grazie fai il tipo dai che sono più vecchio ho 47 anni siamo qui per te prendo la paga i locali diciamo sono ferrati però i local legend come li chiamo io comunque ci aspettiamo grandi cose grazie amici lui è il nostro fotografo ufficialissimo ufficialissimo ha una pagina la vista che si chiama scatto vista trovate tutte le foto degli eventi locali della puglia e tanta roba come va la giornata tutto a posto ma fa caldo ma let's go è un po' emozionato non li abituate come a fare il paliaccio lavate la telecamera lui è concentrato con suo mega obiettivo tac oggi foto super dell'evento fine giornata poi le troverete tutte sulla sua pagina poi vi lascio un link in descrizione let's go ragazzi buon maggiorno ciao belli ciao devo dire che fino ad adesso il proprio inverno sta dando tante emozioni poi una giornata una giornata meravigliosa cazzo it's all about humanity it's all about humanity luk che impressione a caldo allora gara 1 prima della bandiera rossa facevo cagare e avevo azzardato una gomma lo so che ormai è un disco fatto quello della gomma ma cazzo è vero che era due quarto giusto non avevo non avevo grip poi per la gara sprint ho detto vaffanculo no più niente da perdere ho messo una soffice che lavora solo dai 30 gradi di asfalto in su però l'ho messa cazzo avevo una trazione incredibile solo che se fosse stata da 15 giri la gara andavo però 5 giri let's go grazie non vuoi fare un saluto agli amici che ci seguono su youtube il grande portale a chi seguono? adesso iniziano a seguire anche te mi raccomando seguiteci tutti è un onore è un onore è un onore è un onore grazie è un onore poterti abbracciare un saluto a tutti i nostri amici su youtube va bello grazie mille sono abbastanza soddisfatto perché comunque sono soddisfatto perché comunque mi sono messo in gioco con ragazzi che stanno ancora tutt'oggi diciamo in attività quindi per me è una soddisfazione aver combattuto con ragazzi che tuttora praticano questo sport quindi va benissimo così ed ovviamente penso che ha poco bisogno di presentazione Luca Salvadori gli passo il microfono perché vogliamo sentire le sue sensazioni che cosa ha provato qui al circuito dell'Evante questo weekend allora ho semplicemente rusicato in gara 1 per un problemino tecnico poi grazie al team che ha fatto un lavoro straordinario abbiamo messo a posto e poi con il caro Colucci abbiamo fatto un po' di sgomitate le prime tre curve la ditta demolizioni non si è palesata quindi un applauso per la ditta demolizioni che dovrà attendere ancora un po' per fortuna intanto mi tocco un attimo le palle stasera prendo l'aereo e non è bello e quindi bellissimo atmosfera fantastica e ragazzi c'è più gente che al CIV sembra bellissimo non so cosa dire grazie ragazzi lo abbiamo intervistato a inizio prima di gara 2 ha detto che ce l'avrebbe fatto la gomma giusta grande Luca complimenti grazie bene amici la giornata è giunta al termine siamo riusciti a incontrare i nostri beniamini sono super contento quest'anno il trofeo inverno per me è stato davvero speciale mi ha regalato tante emozioni sono super contento dell'organizzazione di come è andata il video è giunto al termine purtroppo anche la giornata è un po' dispiaciuta spero di avervi strappato un sorriso e spero che il video vi sia piaciuto se avete piacere come sempre supportate il mio canale che è ancora piccolino però ci è voglia di fare tanto grazie amici voglio bene